Coach Puccini sono arrivati ai primi tre punti diretti contro un avversario come Scandicci, un 3-0, però un inizio non facile. Sì, sapevamo che loro sarebbero partite forti, aggredendoci al servizio, l'avevamo preparata così e così è stata. C'è stato da avere pazienza fino a metà set e poi le cose sono andate come volevamo noi. Tre punti importanti per la classifica, ci danno morale, ci fanno respirare un po' in ottica ora di andare sabato prossimo a San Casciano e poi ancora il sabato dopo in casa contro Spezia. Quindi diciamo che arriviamo lì con tranquillità dal punto di vista emotivo e anche di punti in classifica. Oltre tre punti però hai avuto anche delle conferme da chi gioca meno. Sì, è tutta la settimana che spingo su quelle che hanno giocato meno, hanno avuto meno spazio fino ad adesso e quindi stasera sapevano che avrebbero avuto il loro momento. Ho avuto delle risposte importanti che secondo me faranno anche comodo durante il proseguimento del campionato proprio alla squadra come cambi e come situazioni da provare e da portare avanti. Infine, cosa hai paura di San Casciano sabato prossimo? Ho paura che è una squadra tosta, in casa difendono molto, aggrediscono molto bene al servizio. È una squadra che sa quello che vuole, l'allenatrice è molto brava e navigata e quindi ci sarà, spero, una grande battaglia. Noi abbiamo voglia di misurarci contro le prime della classe, abbiamo tanta curiosità di capire a che punto siamo e di capire cosa ci manca per essere a livello di loro. Quindi da parte dei ragazzi c'è tanta attesa e tanta voglia di andare a giocare queste partite.